ed è sotto c'è una scritta, non so se si vede, dice il presidente Mao Zedong a sinistra dorme nel rosso, vestito di rosso. Il presidente Mao Zedong non c'è, perché poi tutti a museo stavano lì a guardare dove è il presidente Mao oppure io, però non c'è nessun puntino. Ora, al di là dell'apparenza, questo lo posso fare con io, prendo una cosa tutta rossa,